Benvenuti signori e signori nel gioco di Rise, Son of Rome. Benvenuti nella più grande struttura mai creata durante l'impero romano. Benvenuti nel grandissimo Colosseo di Roma. Io sono il gladiatore Gabrielius in latino. E benvenuti anche all'inferno. Ok, che devo fare? Sì, che devo fare? Ah, eccomi, ciao! È da un botto di tempo che non ci vediamo, eh? Vai! Ah, che bello! Che bellezza! Ah, che soddisfazione! Ah, i cutie! I cutie! I quick time event! Ah! Tu! Ah, sì! Ah, tu pure! Ah, sì! Ok! Tutti quanti, osservatemi e baciatemi il culo! Magari! Oh, è comparsa una statua! Voi venite qua! Tu invece, lo diamo la statua! Ok, altri barbarozzi! Ah, aia, aia! Ah, aia, aia! Ah, aia, aia, aia! Eh sì, però, magari via! Ah! Eh vabbè, ma quanti siete? Ah! Devo camminare sull'acqua, mi devo sporcare gli stivali nuovi! Presto, presto, presto! Sali, sali! Tomb Raider, vai! Assassin's Creed! Ok, madonna! Ah, ah, ah! Eh vabbè, ma sono troppi, aiuto! Questa cosa andrebbe fatta online, però siccome sono stupido, io lo faccio offline, da solo! Eh, eh! Aiuto! Il mio galliatore non ce la può fare! Tu chi sei con queste spalle così? Ma tu levaci, che cosa vuoi? Ma che vuoi? Aia! No, aiuto! Ah! Mi sento Sonic! Aiuto! Mi sento un riccio, anzi! Che vabbè, Sonic è un riccio, quindi vabbè! Aiuto! Devo rotolare per forza, non ce la faccio! Ah! Aiuto! Ok! Più o meno... Ah, ah! Eh, vabbè, se! Vai, 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 vai! Ok, tu pure! Ah, noi due! Ah! Ah! Che male! Ah! Ah, noi due, bitches! Ah, 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 non è giusto! Ah! Sì, sono in fin di vita! Ma dove voglio andare? Dove voglio andare in fin di vita? Sì, sono in fin di vita! Vieni qua! Pam! Ah, che male! Oh, yes! Roma sarà fiera di me! A noi due! Ah! Posso dire il popolo di Roma e in totale il mio nome! Parole sante! Soldato! Anzi, gladiatore! Pam! Mado, che combo! Via! Sì, vabbè, che combo! È questo per morire! Aiuto! Siccome sono un giocatore singolo, se muoio finisce la partita! Eh, eh! Via, via, via! Corri finché puoi, corri, corri! Finché non ti tagliano le gambe, corri! Ah, tu muori! Che mi stai sulle palle! Aiuto! Ah! Ah! Mi sento su Dark Souls, non so perché! E vabbè! Oh, yes! Abilità speciale! Voi! Maddo! Oh, ma alleluia! Madonna, madonna! Cos'è sto gioco? Roma, ascoltami! Ti adoro! Che devo dire di Roma, scusa? Non ho niente! Eh, vabbè, ma quanti siete? No, vabbè, ma non ce la faccio! So gioco... Allora, sta modalità è fatta per il multiplayer! Tu chi cacchio sei, Ercole? Con la pelle di lupone in testa! Guarda che siamo nel 2016, anzi nel 2017! Per... Nel 2017, sì, giusto! Avevo anche dubbi su in quale anno prossimo! Vedi che è ritardato! Ok, tu crepa! Aia, che male! Tutti i denti, tutte le gengive! Eh, ti dicevo, Ercole, siamo nel 2017! St'acconciatura con gli orsi sulla testa non vanno bene! Aia! No, sto per morire! Aia! Oh, aia, che male! Non ce la faccio! Ah! Crepate! Ok, tu crepa! Pure tu! Pure tu! E tu voli! Mamma mia! Ok, pure tu crepa! Beccati questo! Pam! Ok! Il bello che è sto gioco, l'ho avuto gratis, tra l'altro! Ok, tu hai rotto le palle! Quindi adesso ti taglio la gola! Ok! Ok! Oh! Si è benedetto Dio! Anzi, Dè in questo caso! Vabbè, l'Xbox mi ha registrato una clip a caso! Non so perché! Ah, perché ho fatto così, può essere! Verme nauseabondo! Ragazzi, se volete un altro gameplay di sto gioco, col volume un po' più basso, magari, ditemelo! Io lo metto alto per fare più atmosfera! Ma se voi lo volete più basso, non c'è altro da chiedere! Non so come sto parlando, ma veramente sì, stesso detto! Non c'è altro da chiedere! Ok, tu! Ah, la gola è morbida come il burro! Ok! Questa modalità è tipo una modalità conquista alla band... Detto questo, il video si può concludere qua! Spero che il video vi sia piaciuto! E noi ci vediamo alla prossima! Ciao! Io intanto continuo a squartare barbari! Te! 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 Beccati questo! Pure questo! Oh, sì! Che goduria! Ciao, ragazzi! Ave Cesare Anzi, ragazzi! Eh, vabbè, ciao! Arrivederci a...